buongiorno oggi 30 maggio la luna manterrà ottimi rapporti familiari per i nati del segno dei pesci creando un clima di solidarietà e armonia favorirà le occasioni per scontrarsi nelle famiglie dei nati nel segno dell'ariete del cancro e della bilancia ricordate che una parola è poca due sono troppe giove cambierà in positivo tutti i progetti messi in atto dei nati del segno dello scorpione lascia bocca asciutta i nati del segno dei gemelli e del sagittario per il momento evitate di tentare la fortuna mercurio aiuterà il duro lavoro dei nati nel segno dell'acquario regalando grande concentrazione e lucidità in ogni momento porterà qualche incomprensione nei nati del segno della vergine saturno lastica la strada dei nati nel segno del leone di ostacoli e difficoltà mentre lavorerà suodo per i nati del segno del toro e del capricorno al fine di assicurare loro un mare di opportunità da cogliere e ricorda respira il silenzio osserva le sensazioni e goditi ogni momento grazie per l'ascolto e a risentirci a domani quando sono te quando tu sei me non siamo figli dell'esterno